È una grandissima partita perché abbiamo fatto esattamente quello che ci eravamo proposti cioè entrare in campo aggressivi, iniziare a mettere in pratica il lavoro di queste ultime settimane e lo si sta vedendo e di sicuro ci aspettavamo un Vakif mai arrendevole ma siamo stati aggressivi, abbiamo sbagliato un pochino tanto in battuta ma contro di loro si spinge o si rischia di cadere malamente poi prendono fiducia e hanno delle attaccanti di grandissimo rispetto quindi grande partita, orgoglioso di tutte perché chi è entrato ha dato un grandissimo contributo anche solo per un'azione, però come sempre si chiude l'ennesimo cassetto, si riapre quello del campionato questa vittoria ci deve far capire che se entriamo con la concentrazione, con l'atteggiamento con le capacità che abbiamo siamo una squadra davvero pericolosa però non dobbiamo fare l'errore di accomodarci su una vittoria di una pool che è molto molto importante ma è una vittoria di una pool quindi testa bassa e pedalare, bravi le ragazze, bravi tutti e si pensa già a Casal Maggiore